Grazie a tutti 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 No scusate Abra del pesce al secolo Michelangelo Corbea Andrea Donapai in acustico per oggi Un applauso, un altro Poi di questa canzone magari ne parliamo dopo Allora, com'è? Diciamo che è buono, dai Siete tantissimi Oggi è una giornata di festa Anche una giornata fresca verrebbe da dire Si apre una... È un giorno che... Madonna, sono emozionato Vai avanti Allora, oggi è un giorno che Questo signore qua a fianco a me Che si chiama Ignazio Caruso Immagino lo conosciate Difficilmente dimenticherà Nel mio piccolo anche io Nel vostro piccolo anche voi Perché oggi è il giorno in cui Ufficialmente Ignazio esordisce Nella letteratura Con questo romanzo Che si intitola Adeu E che è pubblicato da Giulio Perrone Editore Corre l'obbligo di sottolineare Il fatto che le poche copie Siamo praticamente primi in classifica Nella classifica della lettura In questo weekend Le poche copie che erano in anteprima Sono andate esaurite Ma saranno disponibili in libreria Tra pochissimo Grazie a tutti Arrivederci L'abbiamo fatto Quello che dovevamo fare L'abbiamo fatto Va bene così Infatti ce ne possiamo anche andare Le presentazioni si fanno per vendere i libri Non è che dobbiamo nutrire il nostro ego Più di quanto non sia ipertrofico Di per sé Dicevo che le copie saranno presto disponibili In libreria Perché erano copie in anteprima Il libro ufficialmente non è uscito Esce giovedì mi sembra 23 Ignazio è disponibile poi a fare il firmacopie Anche a domicilio Lascia il suo numero a tutti E va a casa per Esatto Sì sì Viene casa per casa I monopatti Senza problemi Allora 2018 Una cosa del genere Frequentiamo un corso di scrittura Insieme con il nostro comune maestro Francesco Trento E Ignazio comincia a Piantarsi nel cervello L'idea di questa storia L'idea di questo romanzo Piano piano Il libro Cresce Il libro Il manoscritto Ancora sotto forma di manoscritto Piano piano lo scaletti Piano piano cominci a scriverlo Però io comincerei questa Chiaccherata Chiedendoti proprio Da dove arriva L'ispirazione Per la trama di Adeu Allora buonasera a tutti Grazie per essere qui Sono molto contento E Diciamo Una festa che Aspettavo un po' da tempo Perché comunque Il libro ha avuto una storia un po' Un po' lunga Quindi Alla fine Insomma adesso siamo qui Ed è questo quello che conta La storia Diciamo Origine Da un giorno in biblioteca In cui io Spulciavo un po' Libri Diciamo Che raccoglievano un po' Favole Storie Comunque Della tradizione Dell'isola In generale E appunto Mi sono imbattuto In questa storia Che Appunto Raccontava Di un viaggio Di un viaggio Che un padre Un figlio Intraprendono E ovviamente Con mio grande stupore Poi scoprivo Che Al termine di questo viaggio Il figlio avrebbe dovuto Uccidere il padre E questo ovviamente Mi ha subito colpito Perché Diciamo che La nostra generazione In generale È una generazione Che con quelle precedenti Ha sempre avuto Un rapporto complicato Poi magari Possiamo anche Approfondire il discorso Senza Parlare Troppo male Diciamo Esatto Perché in effetti Questo È un po' Anche l'argomento Del libro Però sì Ecco Questa storia Mi ha Intrigato In maniera particolare Anche perché Ritengo Insomma Che Non è che lo ritenga io Però In generale In queste Storie Che Si tramandano Soprattutto oralmente In realtà Ci sia poi La vita vera Cioè Nel senso Proprio Gli archetipi I riti Di passaggio Che poi Ogni essere umano Dovunque Viva In qualsiasi Epoca Viva Deve affrontare E quindi Ho trovato Poi interessante Cercare di Imbastire Poi Prendere questa Storia Farla mia Appunto Immaginare Un mondo In cui Appunto A un certo Momento I figli Devono uccidere I genitori Proprio Nel vero Senso Della parola Concretamente Tra l'altro Poi Ho anche scoperto Insomma Piano piano Facendo delle ricerche Anche a livello storico Che Il geronticidio O il senicidio Dipende Se vi piace di più Il greco O il latino Anche io Il greco Non l'ho fatto Infatti poi Dovrò dire Delle parole in greco E spero Per fortuna Qua abbiamo Alessandro Cadoni Che mi potrà Correggere E Poi diceva quello Se mi sbaglio Mi corrigerete Vedi a proposito Di ego Che si sta gonfiando Siccome le ricerche Che ho fatto Riguardano anche Il padre di Alessandro Il professore Enzo Cadoni Che lui aveva Lavorato appunto Anche sull'espressione Del riso sardonico Sardonios Gelos In greco Però poi Magari Ne riparleremo E quindi Ho scoperto Diciamo Personalmente Poi Che In Sardegna Diciamo Ci sono delle fonti Che raccontano Appunto Di una reale applicazione Poi del Del geronticidio In epoca Forse punica O forse addirittura Nuragica Quindi precedente In epoca precedente E appunto Ci sono varie fonti Che raccontano Di questa Di questo rito A un certo punto Solitamente Qualche autore Qualche storico Fa riferimento All'età dei 70 anni Ma Insomma È tutto da dimostrare Ovviamente I figli Uccidevano il padre Poi sul fatto Che fosse un sacrificio A crono Infatti Perché poi qua Basta leggere Le prime due pagine Già ci si accorge Di quanto Comunque Come dire La L'atmosfera Mitica Epica Della storia Sia importante Devo riuscire a chiudere Questa frase Non mi ricordo Come l'avevo cominciata Però insomma A un certo punto Questo è quanto Quanto è un buon modo Di dire la frase Grazie Senti Non diamo troppe cose Per scontate Però Magari Non tutte le persone Che sono qui Anche perché sono finiti i libri Non tutte le persone Che sono qui Conoscono il plot E la trama Del romanzo Perché non è un saggio È un romanzo E che romanzo Verrebbe da dire E poi ne parliamo Quello che si può dire Quello che c'è scritto Nella 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 seconda Di copertina Senza troppi spoiler Insomma No Allora Ovviamente Per bastire un po' Tutto questo mondo Cioè Ovvio che Sarebbe del tutto Implausibile Per la nostra Morale Oggi No? Immaginare un mondo In cui i vecchi Vengono Gli anziani Come li volete chiamare Io uso la parola vecchio Con Nella estrema Nobile accezione Del termine Che Quindi Sarebbe del tutto Impossibile Immaginare un mondo In cui i vecchi Vengono dimenticati Abbandonati No? E quindi Ho Diciamo Immaginato questo mondo In un mondo Prevalentemente Pagano In un'isola Che si chiama Kadossen Che anche questo è un nome E che Con cui si dice Venisse chiamata la Sardegna Ma in realtà Insomma Non ci sono poi Grandi testimonianze Di questo Per cui Come vedete Non sono stato là A guardare Molto Come dire Non è un romanzo storico Per cui Non mi interessava Dare della veridicità storica A quello che scrivevo Ma più che altro Creare un'atmosfera Un'atmosfera che fosse poi funzionale Al racconto E quindi Questa Repubblica di Cadossene Mannaggia Questa Repubblica di Cadossene È appunto Un'isola del Mediterraneo In cui si applica Il geronticidio Per cui È accettato Dal punto di vista Sia spirituale Che temporale Il fatto che Quando i vecchi Vengono Sono ritenuti Improduttivi E un peso Per la società Sta poi Ai figli Appunto Iniziare a compiere Questo viaggio con loro Portarli sul monte E poi Ucciderli Aspetta che mi stai bruciando Già due domande Perché quella dopo Era quella proprio Sul mondo narrativo E quella dopo ancora Era sull'onomastica Te le faccio tutte e due Insieme Racconta un po' meglio Questo mondo narrativo Allora Il romanzo Come dire Anche la letteratura Va un po' per mode Adesso c'è un genere Che è considerato Molto di moda Lo chiamano Distopico Io non sono così d'accordo Che questo sia Un romanzo distopico Perlomeno Non è solo Un romanzo distopico E appunto Si immagina un'isola Si immagina Quest'isola Siamo più o meno I tempi nostri Più o meno Ci sono i cellulari Per dire Ci sono i cellulari E In cui appunto Si deve Compiere Questo Geronticidio Rituale L'onomastica Cadossene I due protagonisti Di cui parliamo Tra un attimo Vengono da un posto Che si chiama Algar La capitale La città più grande Di questa Isola Che si chiama Cadossene Si chiama Castel Castel Dai Spiegaci un po' Questo mondo narrativo E anche La scelta Dei toponimi Ma io Mi sono accorto Poi che Nella scelta Della costruzione Del mondo Ovviamente Mi sono di fatto La Sardegna Ma è una Sardegna Trasfigurata Nel senso che Anche dal punto di vista Delle dimensioni Diciamo Non mi sono immaginato Un'isola grande Quanto la Sardegna Mi sono ovviamente Appoggiato Alla varietà Linguistica Che abbiamo In Sardegna Ma Mi sono appoggiato Appunto al catalano E poi ovviamente Anche In grande parte All'algherese Algar ovviamente È una trasposizione Onirica Di Alghero Per cui Non so se poi Magari Sì domani Dopo vorremmo leggere Una pagina Appunto Che descrive Appunto questa città E poi ci sono anche Altre due Altri due paesi Che incontriamo Cioè un paese E una città Che incontriamo Durante il nostro viaggio Che sono Belloque Che poi insomma Non direi Non direi tanto Insomma poi Ne possiamo anche parlare E Castel Che ovviamente È la sede La capitale È la sede Burocratica Del mondo E quindi abbiamo Diciamo Una sorta di Algheresizzazione Di un'isola E ovviamente Ho detto Costruisco il mio mondo Lo faccio Insomma Più possibile Simile a me In qualche modo E però l'hai fatto pagano Pagano certo Perché il cristianesimo È una religione Che manda Il figlio A morire Non il padre Mentre invece Lo so E purtroppo è così E già ci siamo fatti Degli amici No no Ritualmente è questo No Il sacrificio Avviene Avviene Da parte del figlio No Mentre invece Diciamo Che poi Insomma Se si va a vedere Il fatto appunto Del Del Geronticidio È una pratica Che Che non è stata Solo tipica Della Sardegna È qualcosa che Che Diciamo È peculiare Di molte culture No Adesso senza stare Insomma Ad approfondire Eccessivamente Però Non è Non è Non è raro Trovare Delle culture Anche Diciamo Non Culture Mediterranee O non solo Ma non solo Non solo Anche ad esempio In Nord America Eccetera Cioè Quando ad esempio Nelle tribù nomadi Ci si deve spostare Da un campo All'altro Ci sono Persone Che non possono Materialmente Andare da un campo All'altro Per cui Le si lascia lì Con il cibo Per una giornata E Le si abbandonano No Ma questo vale Per la sopravvivenza Poi dell'intera comunità E quindi In questo mondo Visto che Diciamo Per noi Diciamo che mi sono Anche un po' divertito Perché comunque La nostra generazione Forse è la prima Che Dal punto di vista Economico Della realizzazione Delle proprie ambizioni Eccetera È destinata Un po' Forse a stare peggio Di quella Che Della precedente No E quindi ho detto Vabbè Visto che la colpa Di tutte le nostre sfortune È delle generazioni precedenti Eliminiamole Simpaticamente E vediamo cosa succede Ovviamente è un atto estremo Però Come dire È anche questa È una sfida Anche perché poi Con l'andare avanti Dal romanzo Poi ovviamente Si La riflessione Si fa Anche un pochettino Più profonda Più intima E quindi Diciamo A partire da questa provocazione Si va avanti Ok Non so se ho spiegato Sì È una Io aggiungerei una cosa La faccio come domanda Purtroppo è la prima presentazione Che faccio Quindi sono scarso Si vede Si vede Lo so Purtroppo Si vede A proposito Ci sono dei miei alunni Che mi stanno guardando Vale Io voglio dire Che domani Loro hanno il tema Sostengono il tema Dalla maturità E io correggerò Poi i loro temi Questo è giusto Per ricordarlo Poi quando gli dico Gli esami non finiscono mai Guardate Come mi sono conciato Io oggi Vedete che Praticamente sto facendo Il mio esame di maturità Il mio secondo Perché uno L'ho già fatto ormai Troppi anni fa Però insomma Senti no Io aggiungerei una cosa Questo Questo geronticidio rituale È Da un lato rituale E funziona Anche in un modo Violento Con Con uno strumento Rituale Che Non è Come dire Un'eutanasia Sedata Tramite sedazione È un No no Un'uccisione Che funziona In un modo molto violento Ed è al tempo stesso Assolutamente Burocratizzata Sì Allora Siamo lontani Dalle parti Siamo completamente Lontani Dalle parti Dell'eutanasia Eccetera Perché Come dire Anche I lustri libri precedenti Esatto Parlano di questo Ma Lì appunto Si fa qualcosa Per Porre fine Alle sofferenze No Di un vivo Mentre invece Qua In realtà Il sacrificio Vale Per il bene Della comunità Tant'è che Appunto A proposito Del riso Sardonico Che è Questo Riso Questa risata Che in qualche modo Deforma Il volto Del vecchio Non si sa Se questa risata Che è Un po' Isterica Fosse provocata Dall'assunzione Di erbe Particolari O se Semplicemente Gli stessi Anziani Fossero quasi Felici Di Sacrificarsi In nome Delle generazioni Successive Quindi per il benessere Delle generazioni Successive Per quanto riguarda Quindi la violenza Sì Questo rito Anche qua Sono delle fonti Classiche Che ci raccontano Del modo Proprio in cui Attraverso il quale Questo sacrificio Deve essere Espletato Attraverso un bastone Che io ho chiamato Randel Randel Non è Una parola Che esiste Né in Algherese Né in Catalano Però Alla fine Diciamo Ho deciso Di lasciarla Perché Mi sono preso Qualche libertà All'interno del Poi magari Approfondiamo il discorso Sull'Algherese Però All'interno del libro Mi sono preso Alcune libertà Visto che comunque Stavo facendo un romanzo E per cui Faccio quello che voglio io Fondamentalmente E questo è il bello Almeno in quelle pagine No? Poi del resto no E quindi Sì Abbastonate E poi gettati Da una rupe Dove poi si accalcano Tutti i corpi Ha burocratizzato Quindi sì C'è proprio tutta Un'iter Che è appunto L'iter Adeu Che dà il titolo L'iter dell'Adeu Che dà il titolo Al libro Per cui ci si reca Presso La capitale Eccetera eccetera Si prende visione Di quello che deve succedere E poi C'è un Un termine Entro il quale Questa cosa La migliore delle traduzioni Delle tradizioni In gergo Si chiama La chiamata all'avventura Arriva proprio Una lettera A casa Una raccomandata Che non è un bel momento Quando arriva Insomma Per chi lo riceve Io richiamerei Ti faccio prendere fiato Io richiamerei Sono distratti Lì dietro Michelangelo E Andrea Donappai Prego Avvicinatevi C'è da lavorare Gli arbra del pesce Gli arbra del pesce Gli arbra del pesce Che ha un gruppo Che ha un solo Il difetto Il bassista Che è scarso C'è anche Sergio Intelisano Che è batterista Oggi In veste di fonico Ma noi cosa facciamo Usciamo No devo fare la lettura Si è già dimenticato La scaletta Abbiamo fatto 8 riunioni Non è vero Che abbiamo fatto La scaletta Io la volevo fare Posso avere un sottocchio Diciamo però Che cosa Che cosa leggo Ma adesso cosa devono suonare La canzone Presente nel libro Oppure Tu leggi prima o dopo Non ho capito Ok Queste non sono di scaletta Veramente Non servono mai a nulla Se Michelangelo Mi fa un sottofondo musicale Io Faccio una breve lettura Dopodiché Visto che te la sei dimenticata Te la ricordo davanti a tutti Dopodiché Facciamo la canzone Allora spieghiamo Qual è la canzone E la spieghiamo dopo Ah ok Esatto Allora Io sto zì No Sai cosa puoi fare Puoi introdurre Il capitolo che leggo Ah ok Allora Il capitolo Che il nostro Abile Emiliano Di Nolfo Ci leggerà È Il capitolo Del giorno primo Siamo a pagina 12 Ed è praticamente Tutta una parte Descrittiva Della città di Algar C'è anche Una frase in algherese Voglio vedere Come la legge Anche perché qui Insomma abbiamo Esponenti illustri Dell'algheresità Per cui Stai attento E E quindi insomma È questo È appunto Tutta la descrizione Di Algar Facciamo un sottofondino Le ombre si allungavano Sul terriccio arancione Della piatta deserta Di Algar Nel periodo dell'anno In cui nessuno Capiva mai Che ora fosse Una strana luce Non se ne intuiva L'origine Di alba e tramonto Insieme Accendeva L'obelisco E il severo volto Di Ramon Busquet Scolpito Nella sua apposa Fiera Di padre Della patria Ingiallendo i marmi Che ogni giorno Il sindaco Faceva inutilmente Lucidare Da una squadra Di operai Alla base Del simulacro Marmore anch'essa Impossibile Sarebbe stato Non scorgere L'iscrizione dorata Che di Busquet Riportava le parole Raccordem Luschevanan No Luscherestan Nella fontana Conficcata Al centro della piazza L'acqua Stagnava di vetro Tanto che in superficie Avreste potuto scorgere Come reperti Chiusi in una teca L'azzurro pieno Del cielo E forse Una qualche nuvola Ferma Sotto i portici Che delimitavano La piazza Bui Sostavano viandanti Alla ricerca Di un poco Di frescura vana Perché nulla Vibrava Nell'aria di Algar Neanche L'enorme gong Del tempio Nè il fragore Dell'ecicale O le tende bianche Ricamate Che d'estate Volteggiavano Nelle finestre Delle case Era solo il silenzio E l'odore salato Del mare Ci si poteva arrivare Imboccando uno Dei tanti carrei Stretti e umidi Che esplodevano Nella piazza Non si sa come Ma tutti Primo o poi Si interrompevano All'improvviso Diluendosi Tra le mura Dorate Dei bastioni D'arenaria Lì Gli occhi Dei passanti Si riempivano Di luce E una valle D'acqua Si allargava Fino a punta Del durmì Vecchio gigante Calcareo Stancamente adegiato Sul letto Dell'orizzonte Stanco di che cosa C'era da chiedersi Visto che da lì Non si era mai mosso A lui Da sempre Spettava il compito Di limitare O forse Proteggere La rada Di Algar E i pensieri Agitati Dei suoi abitanti Ecco la canzone Eh certo L'ho anche detto prima Non l'ho sentito La vita nostra E' un sogno Vivi E' schivo il cru E' schivo il quid L'u che sa ve Uno è realtà Divan tempos E' verità L'u che sa ve Uno è realtà Divan tempos E' verità Divan tempos La follia caldura Tengui fortuna O malaurà Arracudem Un alzeies Escrit Divan tempos L'uprova E' ric Arracudem Un alzeies Escrit Divan tempos L'uprova E' ric La giusta Molde Tozze Stimira Ma cosa hai fa La gente Anvira Quando passa il tempo Mangiati Cantat E' no sapiglia De chi è sprurant Quando passa il tempo Mangiati Cantat E' no sapiglia De chi è sprurant Grazie Iabra del pesce Incompleti Per lo meno Una buona metà Che canzone è Perché l'hai scelta Perché la citi nel romanzo Perché l'abbiamo fatta eseguire stasera Allora la canzone Qualcuno L'avrà riconosciuta Anche se L'arrangiamento Che hanno fatto E' Insomma Bellissimo Si discosta Un po' A livello Armonico Eccetera Dall'originale Però Ne mantiene lo spirito Mistico Quasi religioso Appunto Della canzone originale Che è La vita nostra Di Pino Piras Che a un certo punto Compare All'interno del libro E' Alla radio Insomma Eccetera Vabbè In un momento Anche particolarmente Concitato Il testo Ovviamente Racconta In qualche modo Quello che è anche Una riflessione Che fa parte del libro Cioè Questa Una riflessione Adesso Insomma Non voglio entrare troppo Come dire In quello che poi Emerge Fondamentalmente Dalla storia Però Una riflessione Sulla vita Sulla Sul fatto che Sull'esperienza Che noi facciamo E Fondamentalmente Qua I protagonisti I protagonisti Di questo libro Hanno anche Un rapporto Come dire Complicato Con Gli dei E con Il destino No? Che gli dei Hanno scritto Per loro Quindi Insomma Mi piaceva molto Questo Questo Messaggio Che Pinopidas Ha lanciato Anche Insomma Di sentirsi Quasi impotenti Di fronte alla vita No? Soprattutto Di fronte alla morte E quindi Insomma A un certo punto La ascoltiamo Anche nel libro Sì È Proprio così No Stavo pensando Che C'era una cosa Che diceva Spesso Baricco Quando Che Se fosse venuto Qui Avrebbe messo Meno persone Di Che salutiamo Un caro amico Il caro Alessandro No Lui diceva Diceva Che Quando La morte In vicina Insomma Le persone Diventano più Verre Le grandi Storie I grandi Romanzi Hanno spesso Questo trucco Pensate A Sirano de Bergerac Pensate A Guerra e Pace Pensate A Sono tantissimi Quando La morte Si avvicina Quando fischiano Le pallottole Si è Non si Non si possono dire Bugie Si diventa Quello che Davvero Si è E non si può mentire Siamo riusciti a fare Quasi Tutta la presentazione Senza accettare i nomi Dei personaggi E senza E senza raccontarli Raccontiamo Almeno Chi sono Questo figlio Questo padre Che rapporto c'è Tra loro due Si Allora I due protagonisti Si chiamano Eloi Che è appunto Il figlio E nevio E nevio Che è il padre Allora Diciamo che Per scrivere Questo libro Mi serviva Allora La storia Della letteratura È Piena Come dire Di parricidi No? Per cui Solitamente Però Il padre Che si uccide O comunque Il Genitore Che si uccide È È cattivo No? E quindi Mi sono così divertito A creare due Due personaggi Che non volevano Assolutamente Entrare Ovviamente In lotta Tra loro Cioè Questo rito Questo rito Li forza Ovviamente Si crea quindi Una pressione All'interno Della loro vita E lui È quello che Magari qualcuno Considererebbe Considererebbe Un bamboccione Quasi No? È un po' Uno scansafatiche Che vorrebbe Che niente Andasse a Come dire Minare Quella Quella piccola vita Fatta di Tranquillità Di comodità Che si è costruita E quindi Veramente Il fatto Che arrivi la lettera Per lui È proprio Quasi una scocciatura Una seccatura Come dire Adesso mi tocca Fare anche questo No? Non bastava Tutto quello Che ho dovuto fare Adesso Pure questo Mentre invece Nevio È proprio Il padre Che nessuno Vorrebbe uccidere Ovviamente Il padre Che già Nella vita Si è sacrificato Per il figlio Per tutta una serie Di vicende Che vengono Raccontate Andare anche Nel libro E quindi Ovviamente Il gioco Poi Il gioco Del romanzo È questo Fondamentalmente Anche se Poi c'è Molto di più Ma Io Lascerei Poi Come dire Ai lettori Ai lettori La capacità E Il gusto Anche Di intravedere Quello che Ci può essere Avete capito Che è Un On the road Tra le altre cose C'è un viaggio Distopico Dipende da che genere Vi piace Se è un romanzo Se vi piace L'avventura È un romanzo L'avventura Se vi piace Il romanzo Distopico È un romanzo Distopico Se vi piace Il romanzo Fantastico Sulla commedia La vedo male Per il resto Allora No si ride Si ride moltissimo Sardonicamente Hai scelto In Esergo Come si dice Una citazione Di Massimo Bontempelli Che vado a leggere Piuttosto che di fiaba Abbiamo sete Di avventura La vita Più quotidiana E normale Vogliamo vederla Come un avventuroso Miracolo Rischio continuo E continuo Sforzo di eroismi O di trappolerie Per scamparne Bontempelli È uno degli scrittori Che tu ami di più Hai scelto Questo esergo E per aggiungere Un genere Che non abbiamo citato Bontempelli È anche un esponente In Italia Del cosiddetto Realismo magico Che è forse Il genere Che più Tra tutti quelli Che abbiamo citato Si addice Al tuo romanzo È così? Allora diciamo Che quello ovviamente È il punto cardinale Che uno guarda Cioè dice Se proprio Stanno andando In una direzione La direzione è quella Poi Ovviamente Ognuno ha i suoi idoli I suoi punti Di riferimento Questo esergo È proprio Un paragrafetto Di un discorso Che lui fa Anche molto più ampio Che è un discorso Che lui fa Negli anni venti Adesso non ricordo Esattamente All'adattazione Dell'articolo Dello scritto Però a distanza Di cento anni Fa delle critiche Muove delle critiche Anche alla letteratura Del tempo Che in qualche modo Secondo me Sono ancora Sono ancora valide In questo caso Io ho trovato Come dire Adattissimo Questo fatto Questo Queste parole Perché Questo è Forse Se proprio Dovessi scegliere Un genere Visto che stiamo giocando Così Proprio Un romanzo D'avventura Perché questa È un'avventura E quindi Scusate E quindi È una grande avventura Che vivono Insieme a questo padre Questo figlio E però Come dire A me La mia intenzione Se mai Scriverò un altro libro Se continuerete Se venderò Almeno Altre cinque Sei copie Magari me ne faranno Scrivere un altro È quello Di raccontare Anche Lo straordinario Che c'è Nell'ordinario No E quindi È proprio questo Il fatto Dell'avventura Che sta nelle vite Più semplici No Perché Noi Oggi leggiamo Tanti libri Tante autobiografie Spesso No Di vite Straordinarie Cioè Che escono Dall'ordinario A me Piacerebbe Proprio Raccontare Invece Quelle che sono Proprio Le piccole cose Della vita Ecco E questa È la mia Intenzione Ti vado stanco Allora L'ultima domanda Non sono stanco Stiamo andando Un po' Troppo No L'ultima domanda È proprio È proprio Sull'Algerese Tra l'altro Qui insieme All'editore Che Non abbiamo raccontato Tutta l'avventura editoriale Che è ancora più avventurosa Della storia del romanzo Tra l'altro Però magari Non gliene frega niente A nessuno Però No Insieme all'editore Avete fatto la scelta Di Lasciare Tutte le parti In Algherese In Algherese Barra Catalano Che ci sono E di non tradurle E l'editore È un editore Che non è un editore sardo È un editore nazionale È un editore di Roma Piccolo Ma in rampa di lancio Eppure avete fatto questa scelta Si diciamo che io avevo Un sogno Cioè far leggere L'Algerese Ai sassaresi Infatti Infatti In realtà Tutto questo Abbiamo una discreta rappresentanza Hanno superato con grande fatica Il checkpoint Di tipo israeliano Che c'è alla rotatoria di Rudas Presentando passaporto No Allora No Allora Diciamo così Mettiamola così Questa è una cosa Che ci siamo detti Tante volte No Che noi anche Nei grandi della letteratura Italiana Scritta Dai sardi Abbiamo letto Con piacere No Il Il Capilagnese Abbiamo letto No Il Nuorese E quanto ci è piaciuto Ci è piaciuto tantissimo Il siciliano di Camillè Il siciliano di Camillè Eccetera No Quindi Allora Giustamente Nel senso Quando poi siamo dovuti Andare a fare Questa scelta Tra l'altro Appunto Mi ringrazio anche Che comunque Poi Mi ricollego Però Apro una parentesi Ringrazio Ad esempio Carlo Secchi Anche Salvatore Izza Che mi sono stati vicini Quando ho dovuto Poi Andare A correggere L'Algerese Perché quante volte ci siamo detti Guarda che se sbaglio un accento Probabilmente La fucilazione Sulla pubblica piazza Esatto Quindi io ci tenevo anche Che una volta che io poi Ho fatto questa scelta Di tenere comunque Parti del romanzo In Algherese Che non sono tante Però ci sono Volevo che fosse Il più corretto possibile Purtroppo Non ho mai scritto In Algherese E quindi è stata anche una sfida Da questo punto di vista Anche stimolante Perché l'Algerese Quindi Perché Prima di tutto Non c'è Allora E questo lo fanno già Le associazioni Che lo fanno molto meglio Di quanto lo possa fare Questo libro L'intenzione Di inserire L'Algerese È semplicemente Un fatto intimo Nel senso che Io sono cresciuto Ascoltando l'Algerese E ascoltando i suoni Dell'Algerese E quindi Come dire Scrivere Scrivere in Algherese E riportare In qualche modo In vita Quel mondo là Che Io ho vissuto Soprattutto nella mia infanzia E che Adesso quando sento L'Algerese Ricordo con molto Piacere E c'è stata occasione Di discutere Con l'editore Di questa scelta Di non tradurre Le parti in Algherese Per esempio In nota Sì sì Ne abbiamo parlato Ma è stata una loro scelta Che io ho condiviso Tra l'altro Come dire Non è qualcosa Che va poi A inficciare La Sì La comprensione Del libro Anzi Lo trovo un valore aggiunto Perché Anche non Vuol dire Anche da Da lettore A volte Non capire O comunque Fare quello sforzo Per immaginarsi Che cosa significa Quella parola O andarla magari A cercare È una cosa È un qualcosa Che da lettore Mi stimola Quindi Tutto ciò che spiega Secondo me Va Eliminato Quindi devi essere Tu lettore Che Fai le tue ricerche Se le vuoi fare Se invece ti piace Semplicemente Ascoltarne il suono Leggerne Appunto Le parole Va bene così Anche perché E chiudo Molto L'algherese Viene utilizzato Molto Dei personaggi Ogni tanto Nell'ambiente Diciamo Estremamente Familiare Colloquiale Ma viene utilizzato Soprattutto Per le preghiere Quindi per me L'algherese E poi soprattutto Anche la lingua Del mistero Quando Da piccolo Diciamo I grandi Non volevano Che tu capissi qualcosa Lo dicevano in Algherese Anche se poi Tu capivi lo stesso Perché lo sentivi Da quando eri piccolo Però come dire Tutte le notizie Che io non dovevo sapere Le ho Captate Sentite in Algherese Per cui In qualche modo È bello che anche Il lettore Riviva questa esperienza Cioè Viva l'algherese Come una lingua Del mistero Aspettiamo Cosa diranno I sassaresi E magari anche I cagliaritani Romani Gli stranieri Nel caso Venisse Come ti auguro Tradotto All'estero Dunque Non ho ringraziato Nessuno Io sono negato Per queste cose Dall'altra parte Del mare Maria Luisa Elia I amici di Sirano La fondazione Alghero Andrea De Logo È qui da qualche parte Volevo ringraziare anche Claudio Calisai Di Panoramica Perché il roll up Che avete visto All'inizio Ha praticamente Insomma Offerto lui Quindi Un ringraziamento E grazie a Claudio Allora Come ti senti? Ti senti uno scrittore adesso? No Ti senti uno che ha scritto un libro O ti senti uno scrittore? Mi sento uno che ha tanta voglia Di bere In questo momento Acqua E non solo Ignazio Caruso Adeu Giulio Perroni Editore Chi non se l'è fatto firmare Sono le prime dediche Della sua vita Per cui Sono un po' impacciato Ampacciato Si migliora Si migliora Grazie a tutti Grazie Applausi Applausi Grazie 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 Grazie.